Nonni Insieme è il gruppo appartamento in pieno centro a Cava dei Tirreni, nato per ospitare persone over 65. Vieni a trascorrere una giornata insieme per conoscerci. Il piacere della compagnia. Mancano ormai due giornate alla fine del campionato di prima categoria Girone E, ma il Cava United ha solo sei punti a sua disposizione. Nel turno di campionato disputato una decina di giorni fa, che è il terz'ultimo, la squadra del presidente Maurizio Alfieri e dell'allenatore Enrico Maria Amore ha dovuto osservare il turno di riposo, rimanendo quindi ferma a 24 punti, a tre lunghezze di vantaggio sull'ultima classificata che è la F3 Nocera, e le altre formazioni che lottano per la salvezza quasi tutte hanno fatto punti. La formazione metelliana, che sperava di potersi salvare anche senza play-out, alla luce degli ultimi risultati, appena due pareggi nelle ultime cinque partite, non può non passare dai play-out e dovrà affrontare le ultime due gare del campionato regolare senza il centrocampista Alfredo Annarumma, squalificato appunto per due giornate. Domenica i biancoblu dovranno ospitare a Santa Lucia il Tramonti, formazione che è avvantaggiata nei confronti dello United, avendo sei punti in più in classifica. Poi i metelliani dovranno andare a Gragnano, allo stadio San Michele, per affrontare la formazione gialloblu che ormai ha poco da chiedere al campionato. Quindi ci vogliono i punti allo United per poter ottenere quantomeno l'accesso ai play-out, che prevedono una formula inedita. Mentre l'ultima in classifica retrocede direttamente, le quattro che la precedono vanno alle semifinali e le perdenti di queste semifinali si fronteggeranno per conquistare la salvezza in prima categoria. Per i metelliani perdere entrambe le partite con Tramonti e Gragnano potrebbe diventare pericolosissimo. Ad ogni buon conto, una consolazione per lo United è arrivata dalle giovanili. La squadra Under-19 del campionato di attività mista, in una gara sostanzialmente corretta, ha fermato sull'1-1 la Cavese, che aveva già vinto il suo girone. Già promosso in promozione il Sant'Egidio, che di recente ha battuto anche lo United per 1-0 a Santa Lucia. Ai play-off ci è andato il Vietri Raito, che alla prima stagione completa in prima categoria ha mantenuto continuità. Dovrà giocare domenica proprio contro il Sant'Egidio e poi osserverà il turno di riposo con l'intento di preparare degli ottimi play-off. In corsa per la qualificazione anche Siano Calcio, Pompei e Valentino Mazzola.